E' un'aria un po' stanca, non sarà che Enrico ti fa lavorare un po' troppo? Comunque sei libero, e se vuoi puoi dirgli... Come faccio a dirgli di no? Andiamo in Africa, lo portiamo qua. E gli farò da papà come fosse mio, te lo giuro. Non ti sembra un po' strano per me? Ma chi? Hai nomi lì da te? Sei sicuro? Io ieri c'avevo una donna, la mia donna, e adesso non ce l'ho più. Dove cazzo è? Questa fa sparire le persone? Te? O me? O tutti e due? Magari così, tutti e due. Magari tutti e due. Pasta fuori. Grazie a tutti